Un anno dopo le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca che annunciava di avere la sensazione che per lui non ci fossero le condizioni per cui le fonderie Pisano potessero essere riaperte, il Comitato Salute e Vita e i residenti ricordano il 15 maggio del 2020 e ribadiscono che si è trattato solo di promesse rispetto alla chiusura dello stabilimento di Via De Greci a Fratte. Ci sarà nei prossimi giorni un problema che riguarda la fonderia Pisano a Salerno. Abbiamo chiesto una relazione dettagliata all'Istituto Zopro Filattico. La mia sensazione è che non si debba aprire l'attività della fonderia Pisano. Prima di prendere una decisione di chiusura vogliamo aspettare questa relazione di merito ma ho la sensazione che non ci siano le condizioni per aprire. Detto con molta chiarezza. In ogni caso tuteleremo in maniera rigorosa l'ambiente e la salute dei nostri concittadini. Annunciazione che hanno voluto nuovamente rinnovare con la pubblicazione del video delle dichiarazioni di un anno fa del Presidente della Regione Campania pubblicato su Facebook dal Comitato Salute e Vita rappresentato da Lorenzo Forte che ricorda come i risultati definitivi dello studio Spess in realtà erano già pronti da gennaio 2020 e i dati che evidenziavano una situazione drammatica del suolo, dell'aria, del sangue degli abitanti della Valle dell'Irno erano già in suo possesso. La relazione aveva messo nero su bianco alcuni dati gravissimi che riguardano il territorio tra cui un eccesso di metalli pesanti a livello preoccupante in generale e alcuni di essi come il cadmio ad altissima nocività, la diossine e la presenza di valori di mercurio nel sangue dei volontari della Valle dell'Irno cinque volte superiori ai valori rilevati nella terra dei fuochi. De Luca nonostante ne fosse a conoscenza e nonostante quelle sue dichiarazioni in un anno attacca il Comitato non solo ha permesso la riapertura ma ha consegnato una nuova AIA all'autorizzazione integrata ambientale abbandonando di fatto per un altro lunghissimo anno la popolazione di ben tre comuni Salerno, Pellezzano e Baronissi costretta ad essere invasa quotidianamente da un odore nauseabondo ai polveri nere. Tutto è rimasto propaganda elettorale nel silenzio e connivenza delle istituzioni, comune, regione, ASLE e ARPAC, così in una nota il Comitato Salute Vita. La relazione finale entrata in possesso del Comitato lo scorso trapile sarà resa pubblica sabato prossimo 22 maggio alle ore 10 con un presidio conferenza stampa presso la rotatoria di Via De Greci a Salerno proprio in prossimità delle fonderie Pisano di Fratte. Il Comitato Salute Vita chiede alle istituzioni responsabili della salute pubblica che vengano adottati provvedimenti immediati per interrompere la dispersione nell'ambiente di mercurio a partire dalle produzioni industriali che utilizzano come combustibile il carbon cock dei cosiddetti forni a cubilotto. Vengano messe in sicurezza le popolazioni esposte per evitare ulteriori danni alla salute e vengono utilizzati anche in occasione del recovery plan fondi specifici per le bonifiche per un piano di disintossicazione della popolazione. Allo stesso tempo il Comitato chiede che venga data una pubblica esposizione da parte della Regione Campania e dell'Istituto Zoprofilattico dei dati rilevati in forma intellegibile dinanzi alla popolazione campana ma in particolare alle comunità dei cittadini più esposte nei territori a partire dai grafici e dalle mappe dei vari cluster resaminati. Grazie a tutti.